Salve a tutti, Max De Falco, redazione Per Sempre News. Oggi siamo con Annalisa De Gregorio. Ciao Annalisa. Tu hai scritto un libro, si chiama Detenuta in un carcere turco. Sì, esatto. Perché questo titolo? Purtroppo nell'agosto del 92 eri in Turchia, eri con un'amica. Era un viaggio di piacere. Purtroppo un incidente con un minibus, l'autista è deceduto. Tu sei rimasta in carcere praticamente per 48 giorni. Allora, partiamo così. Tu sei stata praticamente questi 48 giorni, non hai potuto sentire la tua famiglia. No. Ti ha raggiunto papà. Sì, dopo un po' mi raggiunse mio padre. La prima cosa che mi chiese è come stessi, perché conoscendomi... Allora, diciamo, tu sei nata a Napoli, sei una buyer, insomma. Sei un amante della moto da quando eri... Amante della libertà. Della libertà soprattutto. E quindi tuo padre, la prima cosa che ti ha chiesto è che è successo. È come stessi, perché conoscendomi... non riusciva a capire come mai non ha... Purtroppo a te sono scoppiate praticamente due ruote della vettura che stavi guidando. Il pulmino, insomma... Ti sei affiancata con questo pulmino, si sono affiancati i paraurti, insomma, quindi... E siamo andati nel burrone. E purtroppo siete andati in questo burrone. Che condizioni hai trovato lì? 48 giorni ce li? Vuoi un attimo descrivere il carcere, le condizioni? Il carcere, vabbè... A parte la libertà, non potevi uscire, diciamo, eravamo in uno stanzone. Non potevi andare nel cortile come facevano gli uomini, perché eravamo sia maschile che femminili, però non ci incontravamo mai. Però mentre gli uomini giocavano a pallavolo, portavano a mangiare, diciamo, a noi detenute donne, noi stavamo sempre lì, insomma, senza fare niente. Poi la cosa principale è che i servizi igienici, non c'era una doccia, non c'era un lavabo, non c'era niente. Stavate in condizioni molto, molto... Il libro, allora, tu hai scritto questo libro letteralmente in carcere. Sì. Tante le case editrici che si sono rifiutate, insomma, di pubblicartelo. Poi è uscita la in fuga edizioni del gruppo Denigris, che finalmente si è decisa a pubblicarti. Sono passati 32 anni. Oggi 32 anni. Hai ancora ricordi, immagino, insomma... Sì, purtroppo sì, perché è un'esperienza che ti segna la vita. Non puoi dimenticare, puoi non pensare, però... Ricade sempre in quella situazione. E cosa facevate, praticamente? Quindi abbiamo detto che i servizi igienici lasciavano anche a desiderare. Sì. Le attività, qualche attività che facevano gli uomini... Niente. Hai trovato il tempo di scrivere, praticamente? Sì, di scrivere, perché poi io mi chiusi me stessa, diciamo... Mi ero fatto un mondo tutto mio. Stavo da sola, fumavo e scrivevo. Fumavo e scrivevi? Sì. Se ti dico Ilaria Salis... Allora, al di là di quello che abbia potuto commettere, qualsiasi reato abbia fatto, per me non è giusto che lei venga portata in tribunale, ammanettata a mani e piedi. Cioè, lì si... I diritti umani dove stanno? Cioè, viene trattata proprio... Cioè, viene annullata come persona. Ma come lei ce ne sono tanti, eh? Di italiani all'estero detenuti, di cui non si sa più nulla la televisione. I media non ne parlano. Mentre a me ne parlarono perché mia mamma dall'Italia... Fece un po' di casino. Quindi, l'alla... Papà, insomma, era con te e stava lì, lì in Turchia. La famiglia, immagino, abbia fatto di tutto. Sì, di tutto per farmi ritornare. Abbiamo... Non soltanto Ilaria Salis, diciamo, il caso è molto molto simile, ma sono tante, soprattutto le donne, insomma, che... Sì, le donne che... Hanno delle situazioni molto simili alla tua. Cosa diresti, immagino, a Ilaria Salis, a tutte le persone che hanno vissuto un'esperienza molto simile alla tua? Beh, io direi di non perdere male a speranza, perché non si sa mai nella vita. E poi spero, insomma, che venga portata in Italia, visto che hanno detto che non la vogliono... In questo momento stanno negando l'estradizione. Ha dato l'estradizione e spero che cambi qualcosa. Io ti ringrazio. Ma grazie a te. Annalisa De Gregorio, l'abbiamo detenuta... E questo è il libro detenuta in un carcere turco. In un carcere turco. Grazie a tutti. Redazione per Sempre News, Max De Falco. Appuntamento alla prossima. Grazie a tutti.